Bentornati a Gnocca Tonight, questa sera tanti fantastici ospiti, io mi avvicino a loro e per creare l'atmosfera vorrei offrire a loro un bel bicchiere di Johnny Gnoccher e il whisky per l'uomo che sa cosa bere. Lo offro a Paolo Tramezzani, Paolo ecco un bicchiere di Johnny Gnoccher lo offro a te che ormai sembri il bis zio di Amsic lo offro ovviamente anche a Luca Franchini del Mantua, lo offro a Alessandro Patruno capitano della pallamano Ferrarini vi faccio compagnia ovviamente, Johnny Gnoccher è il whisky per l'uomo moderno mandiamo giù una bella sorsata di Johnny Gnoccher, molto buono per dimenticare la brutta giornata che abbiamo avuto, ecco abbiamo ovviamente Luca Franchini che dimentica di aver avuto con questo Johnny Gnoccher Bindi Costacurta come allenatore com'è Costacurta?